Nella clinica del professor Herschel, convocati da misteriosa lettera, pervengono diverse persone, in apparenza per un soggiorno di cura o di vacanza. I coniugi Lyndon e Cheryl Craft, i coniugi Peter e Stella Suniak, il solitario David Davis. Mentre gli ospiti cercano di capire il perché del misterioso invito, inizia una serie di attacchi a loro e allo stesso personale, la domestica Meg e la giovane segretaria Lydia. In realtà la clinica è stata costruita in funzione di Patrick, il figlio del professor Herschel, rimasto sfigurato mentre si trovava su di una strada accanto alla macchina in panne. Patrick, immobile nel suo letto, possiede poteri surumani che il padre scienziato ha potenziato mediante le forze di tre persone usate come cavie e donatrici involontari delle proprie energie. Patrick uccide ad uno ad uno gli ospiti, anche se uno solo degli stessi potrebbe essere stato l'autore della sua disgrazia. Lyndon viene arrostito nella piscina. David viene impiccato con un uncino. Stella viene trapassata da uno spiedo per tutta la lunghezza del suo corpo. Peter viene soffocato dai gas della macchina con la quale tenta di fuggire. La stessa Meg viene sbranata dai cani. L'unica supersite è la giovane Lydia, misteriosamente legata a Patri. Quando Herschel tenta di indurre il figlio a compiere l'ultimo assassino, uccidendo Lydia, Patrick raccoglie le ultime forze e uccide il padre. Dunque, il racconto attinge rozzamente a scampoli dei racconti del terrore che condisce con dialoghi semplicemente temenziali. Se uno spettatore ha la capacità di resistere alla visione di un prodotto così escadente, avrà l'insano divertimento di nudità catena e di morti atroci, descritto con la fantasia di un campione di servizie. Un film che sostanzialmente sconsigliamo a tutti.